cos'è sto coso? ma chi è? ma cos'è sto coso? oh eccoci bene era 1 4 0 8 no ho sbagliato ho calcato 5 a 1 4 0 8 oh si è aperta va bene e ne libererò e dagli tutto proprio vabbè vi tornerò a prendere il mio caro lanciagranate la mia pistola il mio carissimo lanciafiamme ecco il resto quella roba che trasporti liberatene ah tutto anche anche le munizioni cioè vabbè ci sta magari potrei usarle come freccette quindi possono essere pericolose ha ragione ha ragione ma proprio buon divertimento ah ma è la stessa cosa di prima vabbè qua ora è meglio però no anche se vabbè poi non sono ricordato che tanto ho fatto partire i can del male inutile perché tanto la combinazione la so già ecco fregato ecco ci sono pochissimo stavolta adesso però io so come va a finire Ethan allontana ti scioppa insomma l'ha anche visto nel video sto qua cioè non poteva allontanarsi figlio di puttana saresti dovuto morire no oddio cosa devo fare ora uh aspettano qua muoviti sta per esplodere allontanati allontanati oh passaggio liberato una cassa che prendi tutto una testa cavolo la cosa più importante del gioco stavo per lasciare qua per fortuna sono entrato indietro altrimenti era un casino la manopola era qua ma la manopola prendi sempre con te che non si sa mai arrivo dai su su finalmente possiamo scappare oddio prendi il fucile cavolo come c'è la pompa sti cosi muoiono non li ricresce la testa vero ah no bene come c'è la pompa sti cosi muoiono con un colpo oh no ce ne sono altri ah no questo sono i resistenti quanto gli odio sti cosi no ne erano altri no è vivo ora è morto era vivo non mi stanno più inseguendo vero no ancora munizione per la pistola psico stimolanti sempre fa sempre bene vabbè però altrimenti sto roba qua metto dentro che non mi serve più nulla la novella finiamo non si sa mai quali sono sti cosi ho trovato delle munizioni per il per il lancia granate però non so se ho un bene vuol dire che c'è un'altra boss fight qua sopra e se no c'è troppa roba qua ragazzi questo non va in parte non va bene però in altra parte no boh eccomi è Zoe ah questa qua è Zoe aspetta nemmeno c'è qualcosa io non so se la libererei la ultima volta ti ha mozzato un braccio cioè io la lascerei anche qui Zoe invece si che la prendere come cioè mi ha aiutato per tutto il gioco quindi Zoe Zoe io non adesso non abbiamo tempo hai entrambi gli ingredienti dovrebbe bastare no dobbiamo fare molto in fretta mio padre e Lucas non sono lontano come è qui papà sta arrivando bene ce n'è abbastanza il padre l'ha eliminato l'avevo eliminato lo sapevo se abbia tornato ma se torno vabbè un'altra boss fight ho tenuto il siero cosa si fa qui fuori c'è una barca andremo alla palude ma senza il siero saremo spacciati ah ok scusate se mi fermo a parlare quando sento questi qua discutere solo che uno di questi è mio solo che non voglio oddio cos'è sto coso riporta quel tuo un culo a casa ti occuperò di te e di ottenere ma chi è ma cos'è sto coso ma non è il suocero vero è un po' mutato vabbè no cavolo aspetta lancia granate ma se tu hai provato a farmi secco per tutto il gioco hai provato a farmi secco per tutto il gioco aspetta no sono caduto no no cavolo c'è il gioco ti devo beccarlo negli occhi oh no mi ha seccato oh brucia brucia no sali no no mi ha ragione davvero il suocero questo lo sa sui televoluzioni è come i pokemon neanche qualcosa c'è ma sono curati mi ha seccato salendo si devo centrarlo negli occhi per me bene e ora andiamo un po' a flambe un po' a flambe un po' di barbecue oh mi fa il bo oh l'ho schimato capito no devo recarcarlo sali sali no ricarica ricarica dai devo beccare l'otto per me sarà l'unica rimasto no se ne ha un altro no oh oh cosa c'è si è assoluta una medica consumare sti posi almeno mi ricenderà un po' di vita odio la tua vita è un segno di pesce ora le ho veste proprio tutte allora il proprio parco di scherzo questo qua era davvero suocero si o no che io se ne è veramente lui sapevo che sarebbe tornato Ethan di qua sapevo che sarebbe tornato il siero curarlo cioè ormai era da poi fare ah tutto bene si andiamo mia ci aspetta allora andiamo comunque scusatesi prima mi ero interrotto solamente che quando i personaggi su cui parlano non voglio evitare di parlare così ascoltate meglio i dialoghi per quello fatti sto coso qua ma è interrotto quindi non è una questione questa avranno capito se era il suocero sì o no perché in teoria credo sia lui credo sapevo che abbia tornato prima o poi l'ho dovuto usare ne resta solo uno ne è rimasto uno ne è rimasto solo uno davvero e ora che ci inventiamo bravo eccola eccola mia eh scelta dura però considerando questa qua mi ha mozzato un braccio questa qua non mi ha aiutato mi dispiace dico davvero ma so che Zoe ci porterà al sicuro poi tornerò a prenderti vai adesso basta andatevene tutti e due vai via oh mi dispiace sono andatevene i mozzini non dire fesserie dimentichi che devo finire un compito mi dispiace mi dispiace mi ha mettuto un braccio lei invece me l'ha rincollato quindi cioè mi dispiace cosa posso fare vi salverò andatevene go tell and rody go tell and rody go tell and rody everybody everybody Grazie.